E dall'inizio dell'anno ammonta 25 kg di tabacchi di contrabbando il bilancio dell'attività della Guardia di Finanza di Pescara e della Direzione Territoriale Lazio e Abruzzo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per il Contrasto al Traffico Illecito, che in una nota congiunta fanno sapere che sono stati 47 i passeggeri transitati all'aeroporto internazionale d'Abruzzo con un quantitativo di sigarette superiore al limite consentito dalla legge. Dall'inizio dell'anno sono stati numerosi i tentativi di introdurre sul territorio nazionale i tabacchi lavorati esteri, i cosiddetti TLE, tramite viaggiatori che hanno cercato di sfuggire ai controlli svolti sistematicamente dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Dogane di Pescara. Come si può vedere appunto nelle immagini che stiamo mandando in onda in questo momento dalla regia. Il risultato è stato dunque il sequestro di 25 kg di bionde per 1250 pacchetti di sigarette occultate nei bagagli personali. Nell'ambito delle attività istituzionali volte alla prevenzione e repressione dei reati tributari ed extratributari, svolte quotidianamente presso l'aeroporto internazionale di Pescara sulla base di specifiche attività di analisi di rischio e di monitoraggio dei flussi passeggeri, le fiamme già ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane, ancora più collaborativi dopo il protocollo d'intesa recentemente stipulato tra le due istituzioni, hanno pianificato attività di controllo congiunte sui viaggiatori in arrivo con voli in transito o provenienti dall'Albania. Non di rado i trasgressori provenienti da Rotte Balcani, che al fine di eludere i controlli alla frontiera, cercano infatti di diversificare l'utilizzo dei vari aeroporti utili per entrare in Europa, puntando a scali in paesi dove si ritiene che i controlli doganali siano meno incisivi e stringenti. Trattandosi di introduzione non dichiarata nel territorio nazionale di tabacchi lavorati esteri, sprovvisti del sigillo dei monopoli di Stato per una quantità sempre inferiore a 10 kg, Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane hanno proceduto a combinare sanzioni amministrative per un totale complessivo di 162 mila euro durante i controlli ai passeggeri in transito presso l'aeroporto di Pescara. Di particolare e fondamentale importanza è stato anche l'apporto fornito dalle unità cinofile della Guardia di Finanza che con il cane antitabacco Maiche ha permesso di migliorare e calibrare la qualità e la quantità dei controlli sui passeggeri in transito, nonché sui bagagli collocati in stiva per i quali in alcune circostanze non è stata reclamata neppure la titolarità. Il risultato dell'operazione si legge a conclusione della nota congiunta evidenzia il costante impegno istituzionale e la proficua collaborazione tra Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane orientato al contrasto del fenomeno del contrabbando e a garanzia della riscossione dei tributi doganali.